Roccapiemonte come protagonista Alessandro Gasman nei panni dell'ispettore Loiacono e nell'agro lo scrittore napoletano era prodato su iniziativa delle associazioni culturali Fedora e Rosa Liberti a Roccapiemonte ha presentato infatti più di un suo libro Noi abbiamo avuto rapporti con Maurizio e Giovanni sono già due anni da quando è uscita la serie dei Bastardi di Pisso Falcone che è stata presentata in anteprima a Roccapiemonte poi ancora l'anno scorso ha presentato qui in esclusiva per la regione Campania la seconda serie quindi abbiamo un rapporto con lui consolidato ci fa molto piacere che una risorsa del territorio possa in effetti essere ormai su un palcoscenico nazionale perché i suoi libri meritano Proprio con qua a Roccapiemonte Maurizio ha portato i suoi libri dei Bastardi di Pisso Falcone ed è una doppia soddisfazione averlo visto crescere fin dall'inizio Ci avete visto bene insomma? Beh sì, diciamo che noi abbiamo visto bene gli autori oggi vedono bene Roccapiemonte quindi è un piacere ed è semplice relativamente organizzare incontri qua a Palazzo Marciani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti